Il dottor Nino Camassa. Buonasera a tutti. La mia presenza qui è la relazione sul cateterismo cardiaco destro. Sancisce una patologia grave che è l'ipertensione polmonare attraverso un percorso minuzioso e consapevole, attraverso una metodica sicura, ripetibile e attraverso cui dobbiamo dare delle risposte certe con valori giusti e consapevoli in centri ad alto volume di riferimento e centri con esperienza in questo senso. Grazie.